Ciao a tutti da Alessandro di 4V d'Italia. Qui con noi oggi c'è una bellissima Wrangler JLU nella versione ibrida 4xE alla quale abbiamo apportato alcune modifiche come per esempio questo paraurti che è il paraurti originale Mopar nella versione in acciaio che abbiamo ulteriormente modificato inserendogli i sensori di parcheggio che normalmente non ci sono. Inoltre abbiamo questo aspetto puramente decorativo infatti i ganci azzurri come la livra della 4xE. Il resto della preparazione consta in un assetto da due pollici e dei pneumatici maggiorati nella misura la 33 la misura metrica è 285-70 R17 che la rendono sicuramente più accattivante. L'aspetto molto importante è che tutte queste modifiche sono state regolarmente omologate. Ne approfitto per segnalarvi che 4V d'Italia non tratta solo gli ultimi modelli, noi partiamo dalla Willys ai CJ a tutto quella che è la storia Jeep e quindi chi avesse bisogno di portare delle cure alla sua Jeep e noi siamo a sua disposizione. Ci trovate a Cusago in Viale Europa 75 e il nostro recapito telefonico e Whatsapp è 338-73-12725. Il nostro sito web è 4vditalia.com